Per l'imprenditoria giovanile Xtra Groove SRL via Donscapin 36-5 Ponte San Nicolò Presentata da Tipolitografia CS Per qualche tempo si è fatta notare una pubblicità cartellonistica molto diffusa che presentava la foto ravvicinata di un occhio di un cavallo o di un lupo. Si è trattato di una campagna creata da Xtra Groove per pubblicizzare vari prodotti. La società è formata da un gruppo di tre aziende che operano in diversi settori della comunicazione per supportare i clienti dalla progettazione al follow-up. Xtra Groove è un'azienda in rapida crescita che sa rispondere in modo esauriente e veloce alle esigenze dell'impresa anche a livello internazionale. Xtra Groove Xtra Groove Xtra Groove Xtra Groove